Eccoci qui, ben ritrovati, qualche secondo e sono le nove in punto, nel frattempo ci ha raggiunto Giovanni Tridente, direttore di comunicazione presso la Pontificia Università Santa Croce di Roma, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno, allora Giovanni Tridente parleremo un po' di tante cose, parleremo anche del tuo lavoro editoriale, ma sei anche giornalista su Omnes, quindi parliamo prima un po' di alcune news degli ultimi giorni, ci siamo lasciati alle spalle solo qualche giorno fa, appunto l'eseque anche del Papa Emerito Benedetto XVI, ci sono stati almeno due avvenimenti, direi che nel frattempo sono sicuramente importanti. Il primo, la riforma del vicariato di Roma, questo atto di Papa Francesco che ha in qualche modo riformato il vicariato di Roma, come sappiamo il Santo Padre è anche Vescovo di Roma, e poi da parte del promotore di giustizia vaticana la riapertura del caso Emanuele Orlandi. In che direzione credi stiano andando queste due notizie? Senz'altro l'accompagnamento che è stato fatto a Benedetto XVI per i funerali è un momento ecclesiale molto importante, significativo, spiritualmente forte, l'abbiamo visto con le giornate in cui sono susseguite le code di fedeli. Certamente Benedetto XVI aveva chiesto un funerale semplice, così è stato da parte dell'organizzazione della Santa Sede, senza mancare evidentemente la giusta possibilità di rendere omaggio a un grande della Chiesa. Evidentemente questo poi ha portato a ricordare gli anni del pontificato, gli anni dell'ascito anche teologico di Benedetto XVI alla Chiesa e ha aperto delle riflessioni sulla sede vacante, sulla rinuncia, insomma questa è una dinamica che evidentemente con l'attualità e con la cronaca si realizza. Per quanto riguarda invece la scelta di Papa Francesco di rinnovare, diciamo così, aggiornare un po' la parte organizzativa e amministrativa del vicariato, questo va nell'ottica della riforma della Curia Romana, della Predicata Evangelium, per quanto riguarda appunto la riorganizzazione e l'innovamento di alcuni organismi. E il vicariato di Roma è centrale in questo, il Papa lo ha detto dalla prima sera in cui è stato eletto, si è presentato come vescovo di Roma, si è fatto benedire dal popolo di Roma. E quindi questo fa capire che ci tiene molto a questa sede ed è importante che sia la sede che apre un po' anche l'esempio a tutte le altre chiese nel mondo, lo è di fondo quella che presiede nella carità tutte le chiese. E quindi è significativo che si sia messo mano anche a... E poi non è una riforma di fondo eccessiva, è semplicemente un rimaneggiamento di alcune prassi che vanno però nella direzione di questa chiesa più missionaria, più evangelizzatrice, adatta ai tempi di oggi. Ecco, questa è un po' la sostanza. L'altro caso di cronaca, diciamo così, più glamour se vogliamo, per come negli anni purtroppo ci siamo abituati a questa... che comunque resta per la famiglia una tragedia, la sparizione di Emanuella Orlandi. Purtroppo su questo io non mi saprei, diciamo, spingere oltre al fatto di dire che prima o poi uno si aspetta una conclusione definitiva di questa storia perché con cadenza ormai, diciamo, trimestrale da diversi anni si ripresenta questo caso e questa vicenda. Quindi diventa anche difficile capire fino in fondo, a distanza di tanti anni, dove si trovi la verità, che cosa sia realmente accaduto ed è difficile non cadere anche nelle mani di chi specula su questo fatto mediatico. Tra l'altro, lo dicevi anche tu, ma l'abbiamo visto anche nella notizia che abbiamo richiamato, soprattutto su questo caso, la notizia che poi è stata confermata anche da Matteo Bruni, il direttore della sala stampa vaticana, è appunto questa, ma ha tenuto a precisare che appunto la riapertura di questo caso, che poi quest'anno celebra in qualche modo anche i 40 anni da quella sparizione di Emanuella Orlandi, la riapertura è stata dovuta, ha detto Matteo Bruni, anche all'impegno, diciamo, alle richieste della famiglia di Pietro il fratello, ma c'è appunto anche questa parola, quasi in qualche modo a enfatizzare anche la volontà proprio della Santa Sede, proprio del Santo Padre di cercare di fare di tutto per in qualche modo dare una verità alla famiglia, ma soprattutto in qualche modo potremmo dire a quasi tutta Italia, un mistero che poi in qualche modo ha coinvolto tutti. Sì, ovviamente questa apertura, questa disponibilità già si è verificata nel passato, negli anni precedenti, quando si è dato credito alla riapertura di alcune tombe nel cimitero, presso un'ambasciata, un consolato, se non erro, diciamo relativo al Vaticano, quindi questa disponibilità c'è, il problema è che in questa vicenda poi si innestano anche alcuni protagonisti che non c'entrano nulla e che giocano sulla mediaticità del fenomeno. È importante che la Chiesa faccia chiarezza, tutto quello che sa lo dica, nel passato ha già diffuso le informazioni che aveva, c'è stato un dossier lunghissimo di padre Federico Lombardi, quando era lui portavoce della Santa Sede, in cui dettagliava tutto quello che era in possesso ai documenti della Santa Sede e riconoscevano che a distanza di anni l'impegno effettivo, il coinvolgimento effettivo della Santa Sede era circoscritto ai primi mesi del rapimento, dopodiché la Santa Sede non ha avuto altri coinvolgimenti per quanto riguarda questa storia. Evidentemente, cittadina vaticana, familiari cittadini vaticani, la famiglia si aspetta una risposta, qualcosa insomma bisogna dirlo in maniera definitiva, perché altrimenti ciclicamente ci ritroveremo ancora per i prossimi anni, purtroppo a ritirare fuori anche dei fantasmi o a dare credito a chi pecula poi su questa vicenda. Assolutamente, speriamo che ecco quest'anno possa portare in qualche modo anche buone notizie su questo caso. Giovanni, il 30, cambiamo argomento, ecco il 30 novembre dell'anno scorso è uscito il tuo lavoro editoriale, Anima Digitale, la chiesa alla prova dell'intelligenza artificiale, tau editrice, può sembrare a prima battuta una contraddizione, nel senso la centralità dell'uomo sul quale spesso, sempre, si è tenuta tutta la chiesa, tutto il mondo religioso, messa alla prova dall'intelligenza artificiale, le macchine che in qualche modo sostituiscono l'uomo, se ne parla sicuramente in ambito religioso, ma se ne parla anche in ambito lavorativo, in ambito giudiziario. Qual è la chiave di lettura di questo titolo? Ecco, la chiave di lettura del titolo è doppia, è doppia nel senso di interpretare se il digitale può avere e ha un'anima o se l'anima deve essere immessa, l'anima umana deve essere immessa nella produzione digitale. Evidentemente io proprio questa mattina facevo l'esperimento con questa che adesso va di moda, chat GPT, tutti chiedono qualunque cosa e io gli ho chiesto, hai un'anima? E lei di rimando mi ha risposto di essere una macchina e di non avere un'anima e di essere semplicemente un mezzo che rielabora informazioni di cui è stato dato conto, insomma è stato immagazzinato un patrimonio di informazioni e lei li elabora, una coscienza. Quindi in questo titolo però è provocatorio per dire non dimentichiamoci che l'ultima parola la deve avere sempre l'uomo ed è un po' anche la sintesi di quello che è il pensiero della Chiesa che io ho analizzato in questo volume, è un lavoro anche se vogliamo un po' certosino che mette insieme una serie di esperienze che erano slegate tra di loro però che fanno emergere una unità di fondo che è proprio l'attenzione e l'interesse della Chiesa e istituzione per tutto ciò che riguarda l'essere umano. Se oggi siamo in questo sviluppo tecnologico avanzato, l'uomo ci deve essere, non bisogna essere pessimisti o allarmisti perché potremmo essere sostituiti dalle macchine, basta considerare che la macchina è programmata, quindi chi la programma è l'uomo. E' lì che dobbiamo intervenire sulla volontà etica di programmare delle macchine che siano per il bene e quindi l'esichiamo che fa evidentemente la Chiesa. Il libro, oltre a ripercorrere un po' anche gli atti più importanti, ecco sul tema degli ultimi tre papi, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco, ripercorre un po' anche in qualche modo l'attività della macchina burocratica, della macchina organizzativa della Santa Sede e dello Stato di Città del Vaticano attraverso i di Castelli della Curia Romana. C'è qualche esperienza che probabilmente ti ha incuriosito di più affrontando questo tema? Sì, più che macchina burocratica io la definirei accademica, perché il riferimento che io prendo ad esempio sono le pontifici accademie, quindi è un qualcosa di scientifico. Sono degli organismi plurali in cui non ci sono solo cattolici, ci sono anche esponenti di altre religioni, però si occupano dei temi della scienza, della vita, della bioetica, quindi sono degli organismi che hanno riflettuto in maniera aperta su queste tematiche. Io li ho organizzati e ho preso ad esempio le dichiarazioni, che al termine delle assemblee di alcune di queste pontifici accademie sono state vese note, relative evidentemente all'intelligenza artificiale. Quello che evidentemente è più anche come esempio plastico è la Rome Call for AI Ethics, tra l'altro qualche giorno fa è stata firmata anche da esponenti del mondo ebraico e musulmano, è portata avanti dalla Pontificia Accademia per la vita, ed è il documento un po' sintesi di tutto questo lavoro anche che è stato fatto negli ultimi vent'anni, se vogliamo, anche raccogliendo il pensiero dei pontifici nelle varie dichiarazioni che hanno fatto agli scienziati. Questa Rome Call for AI Ethics è, possiamo dire, il manifesto di partenza ed è interessante perché è stata richiesta proprio dal capo della IBM, perché in una conversazione con l'Arcivesco Paia, che è il presidente della Pontificia Accademia per la vita, come lui racconta anche in un'intervista che mi ha rilasciato per il libro, diceva che noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia indicazioni per fare bene il nostro lavoro, per essere in linea, eticamente diciamo, o in linea con ciò che serve all'uomo e non soltanto al profitto. Quindi è interessante perché questa richiesta emerge proprio dal mondo scientifico, tecnologico, produttivo, imprenditoriale che sta dietro poi al macchino. Allora, lo ricordiamo nuovamente, Anima Digitale di Giovanni Tridente, TETAU Editrice, grazie Giovanni per essere stato con noi, direttore di comunicazione presso la Pontificia all'Università Santa Croce e speriamo di averti anche prossimamente nuovamente ospite qui su Padre Pio TV. Grazie ancora. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buona giornata e noi ci fermiamo qualche minuto per un break pubblicitario e poi torniamo.